Verrà svelata l'identità di Satoshi Nakamoto? Scopriamone lì. E' circolata infatti nella notte questa incredibile notizia che in un nuovo documentario della CBO sostiene di aver scoperto l'identità del creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto. Ecco qui potete già vedere il trailer del documentario che sarà firmato da Karl Nobac, noto produttore e regista già famoso perché nel 2021 fece una serie su QAnon va a smascherare i responsabili di quella teoria del complotto lo sapremo la notte alle 2 del 9 ottobre quando uscirà il documentario e chissà che cosa possa andare a scovare quindi chi si celerà dietro pseudonome più celebre. Potrebbe essere quindi risolto uno dei misteri epocali della storia del mondo cripto il creatore di Bitcoin potrebbe essere svelato. Sarà vero? Se prendiamo per vera la promessa dell'emittente una rivelazione di questa portata potrebbe avere imprevedibili conseguenze soprattutto per la campagna elettorale sull'elezione stessa del presidente degli Stati Uniti. Ma chi potrebbe essere davvero? Ci sono già delle prime proiezioni. Come sapete già da qualche mese sta spopolando soprattutto negli States questa app Web3 Polymarket in cui si può insomma scommettere su politica news, cultura e tech e andiamo a vedere già i primi favoriti rispetto a questa incredibile notizia. Se andiamo a vedere i favoriti ragazzi c'è dell'incredibile addirittura sarebbe Len Sasaman Satoshi Nakamoto ma che cosa c'è di strano? C'è di strano che sarebbe morto nel 2011 quindi si tratterebbe davvero di uno scoop eccezionale clamoroso perché guardate anche i volumi su questa scommessa un po' anzi molto più giù troviamo Al Finney Nick Zabo solo l'1% un altro cyberfan come Adam Black solo il 7% se andiamo invece a vedere la scommessa se davvero l'identità di Satoshi verrà rivelata dal programma abbiamo solo il 25% che crede che questo avvenga quindi diciamo che c'è molta attesa ma pochi ci credono addirittura alle scommesse dicono che sia una persona ufficialmente deceduta che cosa succederà? aspettiamo il 9 ottobre per saperlo voi che cosa dite rimarito a questa notizia ragazzi? credete che sia davvero Sassaman? chi potrebbe essere? verrà svelato? fatemelo sapere nei commenti incredibile questa storia ci vediamo domani per il prossimo episodio